Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Chiara Ferragni esce in ciabatte. Il prezzo folle. Anche se l'ultimo anno avrebbe dovuto insegnarle a volare basso, Chiara Ferragni continua ad ostentare le sue ricchezze. Il suo ultimo colpo di testa? Un paio di ciabatte che hanno un prezzo inaccessibile e comuni mortali. Dopo il Pandorogate, il mondo degli influencer ha iniziato a traballare. Eppure molti di questi personaggi, VIP o pseudo tali, continuano ad ostentare le loro ricchezze senza comprendere che c'è stata un'inversione di marcia. Chiara Ferragni, colei che ha dato inizio a questo mondo e allo stesso tempo ne ha segnato il tracollo, ha dimostrato ancora una volta di non aver compreso la lezione. L'imprenditrice si è mostrata con un paio di ciabatte che costano un occhio della testa. Chiara Ferragni si è lasciata immortalare per le vie di Milano con ai piedi un paio di ciabatte extra lusso. Si tratta delle Yeezy Slides disegnate da Kanye West per Adidas. Il prezzo, neanche a dirlo, è stellare. Prima di scoprire il costo, i fan dovrebbero porsi anche un'altra domanda. L'imprenditrice le ha pagate oppure si tratta di un supplied non specificato. Le Yeezy Slides sfoggiate da Chiara hanno un costo che varia tra i 500 e i 1200 euro. Una cifra folle, soprattutto se consideriamo che si tratta di un paio di pantofole di plastica dallo stile discutibile. Tra i commenti allo scatto della Ferragni non a caso si legge uscire in ciabatte calze direi di no anche se sei Chiara Ferragni, oppure le ciabatte con le calze bianche solo tu le puoi portare con tanta disinvoltura restano orrende per. O ancora, ma veramente sei uscito?